Occhi puntati sul Senato e non solo, perché stiamo sentendo i leader, altri li sentiremo più avanti, tra poco ascolteremo anche un Grillo che si è speso poco, insomma quei giornalisti ha incontrato Conte, i neoparlamentari. Allora sentiamo cosa sta dicendo Conte, leader di 5 Stelle in questi istanti e poi sentiamo anche il fondatore Grillo. L'ultima notizia, il Fratelli d'Italia si sta vantando di inserire, di voler inserire nella prossima legge di bilancio, la dovranno presentare tra poco, l'elevazione della soglia del contante a 10.000 euro, io sono responsabile con i miei governi di averla abbassata, 2.000 a 1.000 euro, allora lo vorrei dire ai giovani, a vostra conoscenza c'è qualcuno che va in giro con 10.000 euro in contante? E se sì è una persona ben vissuta o di malaffare? Io non ho mai visto qualcuno che deve andare con una valigetta con 10.000 in contante, se fai del nero sì, se parliamo di economia sommersa sì, quindi stanno facendo un favore agli spalloni, sapete chi sono gli spalloni? Quelli che con le valigette vanno oltre Alpe e portano i nostri risparmi, la nostra ricchezza la portano nei forzieri, ovviamente delle banche d'oltre Alpe. È così che tu vuoi dare segnale per innovare la società e migliorare la società italiana? Che cosa è successo? Hanno abolito il cashback, lo ha abolito purtroppo Draghi, su richiesta della Meloni e di Salvini, adesso completano la riforma. Allora così Giuseppe Conte, in mattinata ha parlato Beppe Grillo, ha parlato pochissimo con i giornalisti, molto più con Conte e con i neoeletti, sono otto secondi, sentiamolo insieme. Quanto dura questo governo? Quanto durerà questo governo? No, dai. Io spero a lungo. Lui spera a lungo, così Grillo che è rientrato nel frattempo in hotel. Sui 5 Stelle, ecco lo quale immaginato il forum dopo il passaggio in Parlamento con i nuovi parlamentari, tra l'altro ha detto io rivendico i due mandati senza questo mio pressing su questo tetto, molti di voi non ci sarebbero, ci sarebbero stati altri che ora non ci sono in questo Parlamento di oggi. Sui 5 Stelle, Stefano Zurlo e Lorenzo Pregliasco, come si presenta?